Sulla vita dei cittadini cambierà che quando vanno a fare la spesa devono provare ad acquistare prodotti che siano più sostenibili, che le aziende abbiano messo sul mercato più sostenibili, perché le normative gli dicono che così devono fare. Ma tanti obblighi cambieranno per gli Stati membri, che per esempio, d'ora in poi, non dovranno più conferire rifiuti in discarica, avranno un limite massimo di conferimento di rifiuti in discarica, ma dovranno invece investire per riciclare il più possibile questi rifiuti, quindi anche per raccoglierli meglio nei vari comuni. Tutto questo da qui ai prossimi due anni dovremo implementare la normativa, poi l'economia circolare è una transizione e quindi ci dobbiamo attrezzare, però prima arriviamo, meglio è, anche perché l'economia circolare ha anche la possibilità di essere competitivi rispetto agli altri player, quindi se oggi noi mettiamo veramente in moto un sistema, una transizione verso un'economia circolare, possiamo continuare ad avere questi vantaggi nel futuro.